Non mi serve aiutare... Ehi, attento! Cos'è questa fretta? Ci vedete! Una rete? Vuotate! E adesso che facciamo, Pike? Vuotate! Vuotate più veloci che potete! Che succede? Vuota, dai! Dai, dai! Papà! Vuota! Pike, dobbiamo portarlo via di qui prima che... Ah! La stanno tirando su! Tai! Cerca di infilarti qui in mezzo! Sì, ma voi... Ti seguiamo subito, sbrigaci! Spingi, Tai! Spingi più forte! Ce l'ho fatta, venite! Mamma! Papà! Non farlo avvicinare alla rete! Lasciami! Devo aiutarli! Tai, vai alla barriera! Cerca tua zia Vanna! Ma non posso! Dovete venire con me! Promettimelo, Tai! Promettimi che andrai alla barriera! Mamma! Papà! Non ti dimenticherò! Mamma! Papà! Ti accompagniamo noi alla barriera! Ma non posso andarmene! E se... E se tornano indietro e io non ci sono? Dopo non mi trovano più! Mi dispiace, Tai! Quando vieni catturato da una rete, è una storia senza ritorno! Mamma! Papà! Hoviti... Mamma! Mamma! Già... Grazie a tutti.